Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su parole di vita. Il messaggio di questa mattina lo possiamo leggere in Isaia capitolo 6 verso 3, così comprendiamo qualcosa di bello. L'uno gridava all'altro e diceva, Santo, Santo, Santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Santo vuol dire puro, pulito al massimo livello, separato da noi, razza umana, separato dalla sporcizia di tutto il mondo, è purissimo, separato, puro, della purezza che noi non possiamo immaginare. Ma dice tre volte Santo, 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 e qui c'è nascosta la rivelazione della Trinità. Elohim, che è al plurale e si traduce al singolare Signore, vuol dire Signore, Santo, Santo, Santo. Bellissimo. Qui c'è nascosta la Trinità, che poi, nel Nuovo Testamento, non è più un mistero, perché viene rivelata. Chi è questo Santo Padre, Santo Figlio, Santo Spirito Santo? Leggiamo insieme in Luca 3, 22 e 23. Si apre la conoscenza di questo Dio Trino e della stessa essenza unico. Leggiamo insieme. E lo Spirito Santo scese su di Lui in forma corporea, su Gesù, come una colomba, e venne una voce dal cielo, Tu sei il mio diletto Figlio, in te mi sono compiaciuto. Il verso 23 ci dice l'età che Gesù fu. Gesù, quando cominciò a insegnare, aveva circa trent'anni e, per quanto riguarda la carne, era figlio di Giuseppe, che proveniva da Davide. Santo, 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 in Matteo 3, 17. Questa è la bella storia di Gesù e della rivelazione della Trinità. Ed ecco una voce dai cieli disse, questo è il mio diletto Figlio nel quale mi sono compiaciuto. Santo, 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 a noi viene detto, siate santi. Signore, grazie. Leggiamo insieme in Primo Pietro 1, 16. Ora siamo noi invitati alla santificazione, poiché sta scritto, siate santi, perché io sono santo. Nel momento che ci volgiamo, nel giorno dell'investitura, Gesù viene presentato. E viene presentato lo Spirito Santo in forma corporea. Allora, quel Santo, 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 ci viene rivelato che è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Nel momento che ci volgiamo a Cristo, per mezzo del prezzo che Gesù ha pagato, e dato che siamo stati comprati, nel verso 18 di Primo Pietro, Primo Pietro 16, e poi leggiamo il 18, così guardiamo il filo di quello che la scrittura ci dice. Poiché sta scritto, siate santi, perché io sono santo, nel verso 18 ci dice come è iniziato questo cammino di santificazione, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandatovi dai padri. Siamo stati pagati, facciamo parte della sua famiglia, perché siamo stati comprati. Pensa quando uno schiavo viene comprato, lascia la schiavitù, entra in una famiglia e viene adottato, così è a noi. In Efesini 1,4 ci dice quale opera il Signore ha fatto per noi, in nostro favore. Leggiamolo insieme, 1,4 dice a Lui che ci ha eletti prima della creazione, prima della fondazione del mondo, che fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui. Allora qua vediamo il grande progetto di Dio prima che fossimo nati. notiamo nella Sacra Scrittura che Gesù Cristo era predestinato avanti la fondazione del mondo che ci doveva recuperare. E anche noi che ci ha creati Dio ci ha creati con un progetto che eravamo nella sua mente quando ha creato il mondo. E poi è arrivato il tempo che siamo nati. La nostra natura umana comincia nel momento dell'inseminazione. Passano nove mesi e poi veniamo fuori. Ma nel pensiero di Dio quando non eravamo ancora nati Lui già ci aveva in mente come quando tu fai un progetto di una casa è ancora terreno agricolo però hai già il progetto e sai come viene la casa. Se sei uno che sai leggere i calcoli i disegni ti resta chiaro in mente come viene la casa. Signore grazie è come quando si fanno degli editing si fanno dei progetti che già ti fanno vedere gli alberi come sono escono fuori dalla mente dell'architetto che disegna la casa che ti ci mette pure a te dentro ci mette il nome chi sei e ti fa la figura che tu cammini nella casa cammina pure. Così siamo nel progetto di Dio siamo eletti Gesù dice che molti sono i chiamati pochi sono gli eletti ora noi dobbiamo comprendere questo l'abbiamo letto qualche mattina fa lo vogliamo rileggere si trova in Matteo 22 14 poiché molti sono chiamati ma pochi eletti in questo c'è un mistero nella stessa famiglia tutti siamo chiamati e non tutti siamo salvati ascoltiamo gli stessi messaggi il marito è salvato la moglie no la moglie è salvata il marito no allora c'è dietro qualcosa non perché Dio non vuole salvare ma c'è qualcosa di più profondo che noi non comprendiamo c'è un mistero chiamiamolo così in questo c'è un mistero nella stessa famiglia tutti siamo chiamati e Gesù dice e ci svela questo che sembra a noi un mistero in Giovanni capitolo 6 verso 44 dice nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira punto e virgo e io lo risusciterò nell'ultimo giorno qui sembriamo assenti noi il Padre ci attira il Figlio ci dà la vita eterna e allora noi ci siamo o non ci siamo certo che ci siamo perché la parola di Dio ci rivela tutto nel verso 37 ci fa comprendere qual è la nostra partecipazione tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me e colui colei che viene a me non lo caccerò fuori che bello questo allora il Padre il Figlio io e te il Padre ci attira il Figlio ci riceve ma noi dobbiamo andare a Lui leggiamo la seconda parte del verso 37 allora siamo coinvolti e colui che viene a me colui colei che viene a me io non lo caccerò fuori bellissimo allora l'indovinello è stato risolto la rivelazione ci dice che c'è una partecipazione del Padre del Figlio dello Spirito Santo e di me e di te ognuno deve fare una parte sembrano cose un po' messe così però la verità ma ci sono dei misteri in tante cose per esempio se noi accendiamo una candela che fa un po' di luce non so la regia si riesce a trovare una candela così ci rendiamo conto nel buio c'è una candela che sta lì sembra una cosa da niente da poco però ci vogliono parecchie cose perché quella candela resti accesa ci vuole la cera perché senza no ci vuole il lucignolo dentro ci vuole l'ossigeno che non si vede se c'è troppo vento muore se non c'è ossigeno muore manca l'aria e muore allora così è la nostra vita c'è una collaborazione reciproca tra il padre e il figlio lo spirito santo e io e te cosa ne viene fuori ho detto prima per mantenersi quella luce quella luce che noi vediamo c'è bisogno dell'acero dell'ucignolo dell'ossigeno non troppo vento né senza aria e vediamo la luce così è la nostra vita ma così è anche l'equilibrio della nostra vita naturale quella spirituale però è fatta di un intervento da parte dello spirito di Dio che soffia la vita divina dentro di noi bellissimo coloro che lui mi dà diciamo veniamo attirati da Dio e noi andiamo a Gesù veniamo eletti a vita eterna come abbiamo letto nel verso 44 la seconda parte del verso 44 dice che quando noi ci muoviamo così dice e io lo risusciterò nell'ultimo giorno bellissimo nell'ultimo giorno gli eredi crediamo in quello che ha fatto questo viene attraverso la fede perché fisicamente non vediamo niente crediamo al Vangelo quello che ci dice e veniamo salvati questa vita viene insufflata dentro di noi dallo Spirito Santo alla domanda del carceriere di Filippi in Atti 16 31 gli viene data una risposta semplice leggiamolo insieme credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia leggiamo fino al verso 33 e guardiamo come viene salvata questa famiglia poi annunciarono la parola del Signore gli predicarono il Vangelo gli dissero che aveva fatto Gesù a lui e a tutti quelli che erano in casa sua ed egli prese con sé li prese con sé in quella stessa ora nella notte lavò nel loro piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi vediamo la partecipazione di Dio che ci attiva lo Spirito Santo che ci convince ci fa sentire che abbiamo bisogno di essere salvati perché c'è anche la funzione dello Spirito Santo diciamo l'ossigeno che ci serve in Giovanni 16 8 dice che lo Spirito Santo ci convince lo Spirito Santo non ci condanna ma ci convince che ci convince di peccato se abbiamo sbagliato ci convince che abbiamo bisogno di un Salvatore per essere salvati leggiamolo insieme quando sarà venuto convincerà il mondo quanto al peccato alla giustizia e al giudizio ci fa comprendere che non siamo giusti e perciò dobbiamo essere giustificati e la terza cosa leggiamola insieme ci convince leggiamo la terza cosa un'altra volta lo stesso verso e al giudizio che davanti c'è il giudizio dell'ultimo giorno e che noi se non siamo salvati prima veniamo giudicati e riversati nell'inferno è una visione nuova che riceviamo da parte dello spirito santo ci fa vedere il nostro destino come abbiamo visto in Giovanni 6 37 dice che il padre ci attira e noi dobbiamo andare a Gesù tutti quelli che il padre mi dà verranno a me e colui che viene a me non lo caccerò fuori allora non accade tutto senza la nostra volontà noi per essere salvati dobbiamo andare al Signore mentre tu ascolti la parola lo Spirito Santo ti fa comprendere che questa è la verità però per essere salvato salvata non ti basta saperlo devi andare al Salvatore per dire ho bisogno di te come se lo Spirito Santo fa la radiografia nella tua vita che hai un cancro però per togliere il cancro devi andare dal dottore non ti basta saperlo devi andare dal dottore e devi dire dottore dobbiamo fare l'operazione lui dice ti dobbiamo squartare aprire il cuore perché così lo facciamo e tu dici va bene basta che sto meglio e permetti al primario di operare e ti cambia tu dici ma che c'entra questa con le cose spirituali il profeta Ezechiele ne aveva già parlato nel capitolo 26 verso 26 e 27 dice che il Signore fa questa operazione nella nostra vita leggiamolo insieme capitolo 36 chiedo scusa verso 26 e 27 qui è il reparto spirituale che stiamo parlando non la parte naturale la parte naturale serve per comprendere quella spirituale vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore sensibile alle cose spirituali metterò dentro di voi il mio spirito santo e farò in modo che camminiate secondo le regole che io vi do o vi ho dato nel Vangelo e osserviate e mettete in pratica le mie prescrizioni la mia parola eravamo a Giovanni 6 37 guardiamo che noi abbiamo una responsabilità noi dobbiamo andare al Signore per essere salvati leggiamo Giovanni 6 37 dice il Padre ci attira e noi andiamo al Signore e il Signore ci salva tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me e colui che viene a me colei che viene a me non lo caccerò fuori questo è già un invito che ci fa colui che viene a me il Padre lo Spirito Santo e Gesù è insieme con noi io tu ci mettiamo insieme e viene fuori la salvezza noi dobbiamo ammettere che abbiamo bisogno del Salvatore dobbiamo ammettere che non siamo santi ma che vogliamo santificarci vogliamo partecipare con il nostro creatore che è puro però Cristo ci lava ci giustifica e possiamo avere comunione con Lui bisogna fare questa sostituzione perciò dobbiamo andare alla croce e gli diciamo lavami e Lui fa questo scambio la sua giustizia la mette su di noi e si prende il nostro cuore vecchio e vede dove lo deve buttare Signore aiutaci questa mattina hai capito bene ci fa diventare popolo suo siamo parte del suo greggio nel salmo 100 verso 3 leggiamo cosa dice siamo popolo che egli pace cura guida nutre leggiamolo insieme salmo 100 verso 3 ogni tanto chiedo dei versi che non sono scritti però la regia è brava si esercita ogni giorno riconoscete che il Signore è Dio è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi siamo suo popolo e Grecia di cui egli ha cura San Pietro trova altre parole ma dice la stessa cosa in primo Pietro 2 10 dice così voi che prima non eravate popolo ma ora siete il popolo di Dio voi che non avevate ottenuto misericordia ma ora avete ottenuto misericordia bellissimo siamo una stirpe santa stirpe vuol dire che noi proveniamo da Adamo siamo stirpe di Adamo siamo cresciuti sullo stesso ceppo con la stessa natura come quando sotto una pianta di olivo crescono dei germogli nuovi crescono come quello adesso siamo della stirpe di Dio da un lato siamo stirpe di Adamo dall'altro dopo questa operazione siamo stirpe di del ultimo Adamo le due nature che si fondono come l'innesto che vediamo spesso e Dio ha inserito la stirpe dell'ultimo Adamo dentro di noi dell'ultimo Adamo ne parla in primo Corinzi 15 45 così anche sta scritto sempre ciò che dice la scrittura non deve essere invenzione nostra che facciamo filosofia il primo uomo Adamo divenne anima vivente per gestire il corpo e così via l'ultimo Adamo è spirito vivificante nel verso 46 ci fa comprendere che noi abbiamo due nature perciò ciò che è spirituale non viene prima ma prima ciò che è naturale poi ciò che è spirituale bellissimo questo prima nasciamo d'acqua nel ventre materno nella sacca piena di acqua e poi Gesù Cristo ci fa nascere dallo spirito e vediamo le cose del regno di Dio ed entriamo partecipiamo con le ricchezze spirituali Gesù in sindesi in due in due ringhi Giovanni capitolo 3 verso 5 ci spiega questo mistero in verità in verità vi dico che se uno non è nato d'acqua cioè non ha una natura umana sul pianeta terra è di spirito poi ci vuole il rinnovamento la rinascita spirituale non può entrare nel regno di Dio in primo Pietro 2 9 ci dice che per fare questo ci viene detto voi siete una stirpeletta abbiamo cambiato tutto un innesto bello e buono un sacerdozio regale un'agenda santa un popolo che Dio si è acquistato perché Cristo ha pagato il prezzo perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa non è la luce del sole la luce naturale e la luce spirituale del nostro essere il cielo e in primo Pietro 1 16 ci viene detto ancora di più leggiamolo cosa dice tu sei grande Signore ti ringraziamo queste opere che fai tu hai fatto tu e continui a fare tu poiché sta scritto siate santi perché io sono santo in questo comincia il processo di santificazione nostra di pulizia di togliere l'impurità vuol dire che non lo facciamo noi però dobbiamo collaborare noi è opera che fa lo Spirito Santo ma non lo fa senza la nostra partecipazione guardiamo in primo Tessalonicesi 5 23 lo Spirito Santo ci santifica cioè mette le idee dentro di noi ci dà la forza di poterlo fare ora il Dio della pace è Dio stesso che attraverso lo Spirito Santo ci santifica completamente e l'intero essere nostro così come siamo fatti trini lo Spirito l'anima e il corpo sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo siamo in preparazione per il suo ritorno la parusia viene chiamata nella Bibbia che vuol dire che Cristo ritorna fisicamente sul pianeta terra per raccogliere noi per prendere noi come Gesù ha detto in Atti capitolo 1 verso 11 e come avverrà in primo Tessalonicesi 4 16 e 17 questa è la parusia vuol dire che Cristo ritorna fisicamente per prendere noi e non è lontano perché i tempi sono maturi leggiamolo insieme Atti 1 11 è salito nelle nuvole verrà dalle nuvole questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo verso il cielo ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo cioè nelle nuvole nel capitolo 4 verso 16 di primo Tessalonicesi dice che lui verrà dalle nuvole poiché il Signore stesso con un ordine con voce d'arcangelo con la tromba di Dio scenderà dal cielo esattamente come dice negli Atti degli Apostoli e prima risusciteranno i morti in Cristo quelli che sono già morti e poi noi nel verso 17 poi noi viventi che saremo rimasti leggiamolo verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore Dio lo Spirito Santo è la nostra partecipazione lo Spirito dice di essere santificati anima spirito e corpo allora che vuol dire essere santificati lo Spirito dobbiamo stare attenti Dio lo Spirito Santo è la nostra partecipazione lo Spirito nostro che non ci sia convivenza con partecipazione a sedute spiritiche e di tutte le infezioni spirituali dobbiamo stare attenti il nostro Spirito che non si infetta con riti satanici con stregoneria perché veniamo infettati chi ci è passato lo sa quante difficoltà ha avvertito e che manifestazioni di paura di terrore di rumori di colpi negli armadi di colpi dappertutto perciò noi dobbiamo evitare di fare questo perché si attaccano così forte nella vita e ci creano problemi spirituali molti non ci credono vedrai lo sperimenterai poi c'è l'altra parte che dobbiamo mantenere santificata l'anima anima spirito e corpo l'anima è tutta quella parte che gestisce la nostra vita naturale che non interferisca a restringere lo spazio che spetta Dio nella nostra vita perché noi siamo il tempio dello spirito santo dobbiamo lasciare più spazio possibile allo spirito santo nella nostra vita in primo corinzi 3.16 dice che noi siamo il tempio dello spirito santo che abita dentro di noi perciò noi dobbiamo come dire qui comanda tu spirito santo ci togliamo dal trono del nostro io e facciamo governare la nostra vita allo spirito santo noi passiamo a fianco e dubitiamo quello che dice lui però c'è il pericolo che facciamo come facevano i religiosi del tempo di Gesù che il tempio santo che era fatto per Dio lo avevano occupato con altre cose ne avevano fatto dice Gesù una spelonga una caverna di ladroni così può succedere nella nostra vita non lo dobbiamo far diventare tale questa parte naturale che fece Gesù in Luca 19 46 c'è il pericolo spiritualmente nella nostra vita poiché sta scritto la mia casa sarà una casa di preghiera noi il nostro corpo deve essere una casa di preghiera ma a volte diventa un covo di ladri non è che andiamo a rubare ci rubiamo lo spazio che spetta Dio non è che dobbiamo essere per forza ladri cediamo lo spazio che è di Dio ad altre cose e di conseguenza il nostro corpo anziché essere il tempio di Dio dove Dio si manifesta ci lasciamo rubare lo spazio dalle altre cose che ci circondano il tempo le passioni le cose che facciamo e rimandiamo sempre quelle di Dio perché il nemico gli fa piacere che noi rimandiamo proprio quelle ci propone sempre delle altre cose che sono più necessarie noi dobbiamo invocare lui per dire signore vieni con la tua autorità e scaccia fuori queste forze spirituali nel verso 45 è Gesù che fa questa opera anche nella nostra vita lì c'erano tanti religiosi ma chi prese l'iniziativa Gesù perciò noi dobbiamo andare a Gesù leggiamo il verso 45 poi entrato nel tempio cominciò a scacciare i ventitori in Matteo 28 18 dice che lui ha il potere contro queste forze ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra perciò noi dobbiamo andare a lui nel suo nome con la sua autorità e dobbiamo invocare la sua presenza perché succeda questo nella nostra vita perché lui è il re dell'universo è il nostro dio e noi vogliamo che lui ci libere il nostro re il re è quello che va avanti nell'esercito e combatte per noi e noi con lui vinceremo vinciamo perché già siamo a un buon punto e dobbiamo anche chiedere insegnami ogni giorno come camminare con te nella figura letterale che leggiamo in Luca 19 47 si traduce nel senso spirituale per noi perché la parola di Dio è profetica ogni giorno insegnava nel Tempio ogni giorno ci deve insegnare come camminare anche se i capi sacerdoti e gli iscrivi e i notabili del popolo cercavano di farlo morire cioè il diavolo cerca di far morire Cristo nella nostra vita di non dare spazio una volta ci fa vergognare una volta ci chiama a fare un'altra cosa una volta ci distraghe una volta ci porta lontano nei fastidi noi dobbiamo dire Signore insegnami 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 perché ogni giorno abbiamo bisogno di imparare cose nuove si dice che la vecchia visse cento anni e ancora voleva vivere per imparare ancora noi non arriviamo mai finché viviamo dobbiamo sempre imparare qualcosa e così diventa oggi meglio di ieri domani meglio di oggi e cresciamo nella fede con la sua assistenza sempre presente nella nostra vita abbiamo detto che le tre parti del nostro corpo devono essere santificate tutte e tre non è che ci dividiamo qui arriva una qui arriva non c'è un confine però nel complesso rileggiamo primo tessalonicesi 5 23 affinché Dio ci santifichi egli stesso completamente l'intero essere vostro lo spirito l'anima e il corpo siano conservati irreprensibili non per un giorno due giorni andiamo al campeggio poi il giorno dopo siamo un'altra volta come prima no fino alla venuta del nostro Signore Gesù Cristo non dobbiamo fare come quando eravamo bambini che facevamo noi a casa nostra nel gruppo dei bambini quando eravamo piccoli a capodanno dicevamo attenzione oggi dobbiamo stare attenti perché se oggi prendiamo qualche schiaffo poi lo prendiamo tutti i giorni dell'anno perciò oggi dobbiamo stare attenti perché se oggi ci guardiamo bene tutto l'anno non prendiamo più correzioni è un po' come il paese dei balocchi che si faceva sei giorni feste e un giorno scuola è fantasia noi tutti i giorni dobbiamo dire Signore insegnami 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 Signore aiuta il corpo dobbiamo stare attenti di mantenerlo pulito perché c'è la fornicazione che ha permeato tutto il nostro corpo le passioni e infatti Gesù dice la parola dice in primo Corinzi 6 18 leggiamo ascoltiamo bene perché il Signore ci guida bene negli insegnamenti primo Corinzi 6 18 dice così fuggita la fornicazione ogni altro peccato che l'uomo commette fuori del corpo ma il fornicatore pecca contro il suo proprio corpo il peccato sessuale ci distrugge ci contamina nel profondo nei nostri sentimenti nelle nostre passioni ci coinvolge non è qualcosa esterna come prendere una pera la rubiamo ce la mangiamo abbiamo mangiato è finito tutto quando veniamo coinvolti nella fornicazione non stai più tranquillo perché il pensiero corre sempre la fornicazione vuol dire pornografia corruzione sentimentale te che ce l'hai sempre nella mente sempre lì che ti inquina vai nel culto e pensi là esci e pensi là non prendi più faccia signore aiutasi fuggite si riferisce a qualsiasi tipo di moralità contro i principi morali secondo Dio a questo riguardo Dio in Genesi già diede un ordine preciso perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie saranno una stessa carne Dio ha in mente una cosa che i due che si accoppiano sono come quando facciamo una fotocopia così e quando si mettono insieme ne esce fuori una fotocopia Adamo conobbe Eva così ne uscì una fotocopia Caino si mise insieme un'altra volta ne uscì un'altra fotocopia abele piccole ma della stessa stirpe della stessa natura quando Dio dice così vuol dire così non mi fate dire di più la bocca serve per lodare Dio l'anno serve per andare al gabinetto e poi chi più ne ha più ne metta tutto ciò che viene fatto al contrario di così è tutto immorale davanti di dietro girati voltati tre quattro cinque non ci pensavi è tutta roba metti fuori hai capito bene non mi far dire di più fuggite si riferisce qualsiasi tipo di moralità contro i principi morali secondo Dio questo dice Dio come due foglie a quattro e ne esce fuori una fotocopia in miniatura piccolo ma uguale la stessa stirpe tutto il resto ho già detto non mi fate dire è immorale per Dio e così e così deve essere per noi dobbiamo cambiare tutti inizialmente abbiamo fatto di tutto e di più ma quando poi abbiamo cominciato a leggere la parola di Dio oh la bocca serve per lodare Dio e non la puoi inquinare con tutte le schifezze che si fanno e poi non mi far dire la posizione che Dio dice così esce fuori con la sua partecipazione una fotocopia un figlio hai capito? tutto il resto tutte quelle acrobazie tutta quella roba là togli di mezzo subito che cominci a vivere la tua vita spirituale meglio ti raccomando così deve essere per noi perché l'abbiamo letto ieri lo leggiamo anche oggi in primo corinzi 6-17 dice che siamo uno spirito con Cristo dentro di noi e dobbiamo stare attenti leggiamo sei tu giovane vecchio sono stato giovane sono vecchio tutto quello che vuoi dire chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui e noi dobbiamo avere il riguardo di questo deve svilupparsi la stessa stirpe adesso che camminiamo col Signore in primo corinzi 15-45 rileggiamo perché perché sono due nature nella stessa carcassa e noi dobbiamo mantenere un'armonia naturale e spirituale che non si devono urtare perché la carne è contro lo spirito lo spirito è contro la carne ma noi sappiamo che Gesù ha piantato la sua stirpe dentro di noi leggiamo questo verso così anche sta scritto il primo uomo ad amo divenne anima vivente l'ultimo ad amo è spirito vivificante e dimora in noi noi stirpe la carne è sua adesso siamo impegnati in un'altra cosa leggiamo Pietro come ci dice che dobbiamo delineare il nostro cammino futuro se non l'hai fatto fino adesso ma voi siete una stirpe eletta molti sono i chiamati ma pochi gli eletti se rispondiamo siamo eletti un sacerdozio regale un'agenda santa un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre quando non sapevamo niente non vedevamo niente ma ora siamo nella luce Cristo è la luce dei popoli è nostra nostra luce proclamiamo annunciamo manifestiamo l'eccellenza morale che Cristo ha trasferito nella nostra vita la sua natura divina in secondo Pietro 1.4 dice che Cristo ha trasferito la natura divina ha fatto un innesto nella nostra vita attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose grandissime promesse eterne perché per mezzo di esse se voi diventaste parte siamo già diventati quando riceviamo Cristo nella nostra vita partecipi della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza a causa del desiderio delle cose che ci attraggono non siamo divini ma siamo figli di Dio adottati e questo avviene nella nostra vita quando noi diciamo Signore mio vieni nella mia vita Signore Gesù vieni ti voglio Signore Gesù il mio cuore è per te ti ricevo così come il Vangelo dice tutto quello che il Vangelo dice di te io ci credo io lo voglio vivere io ci voglio camminare e infatti che cosa dice in Giovanni 1-12 dice che quando lo riceviamo così crediamo a quello che dice il Vangelo di lui a tutti quelli che l'hanno ricevuto così con desiderio di volerlo seguire egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome il suo nome vuol dire il suo carattere la sua persona tutto quello che gli è tutto quello che dice lui è tutto se non hai fatto questa scelta lo puoi fare adesso è un atto di fede che tu rivolgi verso di lui signore ti voglio ricevere perché lui ti cambia la vita allora ma glielo devi permettere non devi uscire da tutte le frattaglie devi concentrare la tua attenzione un atto di volontà devi dire signore da questo momento desidero che tu devi essere la mia guida il mio salvatore il mio salvatore è la mia guida colui che mi ammaestra colui che vive dentro di me i tuoi principi sono viventi dentro di me io li manifesterò li proclamerò e cominci subito e questi non sono nati da parte di volontà di papà di mamma se fosse così e noi salveremo le persone invece questa è un'opera come abbiamo visto che c'è la partecipazione di Dio è Dio che fa questo ma noi abbiamo la nostra parte leggiamo in Giovanni 6,37 così comprendiamo che noi abbiamo qualcosa da fare in questo Dio ci attira ma noi dobbiamo andare a Gesù leggiamolo per cortesia Giovanni 6,37 dice tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me e colui che viene a me io non lo caccerò vedi allora se tu vai a lui in questo momento lui ti riceve come suo figlio ti lava ti purifica ti riempie di Spirito Santo perché questa è un'opera che fa Dio ma tu ti devi aprire perché l'innesto venga fatto nella tua vita leggiamo il verso 13 la parola di Dio è meravigliosa perché ci dà tutte le informazioni pratiche che noi abbiamo bisogno i quali non siamo nati da parte di sangue perché siamo di sangue blu il DNA di papà di mamma né di volontà di carne la nostra carne non desidera le cose spirituali né da volontà d'uomo perché qualcuno ha deciso per noi ma siamo nati da Dio qual è la nostra parte quella di andare a Dio il Signore ci attira per mezzo dello Spirito Santo lo Spirito Santo ci convince che abbiamo bisogno di un Salvatore e noi andiamo al Salvatore per essere salvati vuoi essere salvata sorella? vuoi essere salvato fratello? ecco dobbiamo andare al Signore andiamo subito preghiamo chiudi gli occhi insieme con me apri il cuore e di Signore dillo dillo Signore io ho bisogno di essere salvata salvato dillo sotto voce io ho bisogno di essere salvato salvata vengo a Te vengo a Te dillo Signore perdona Signore perdona gloria a Te Signore sì sì grazie Signore grazie 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 vieni nel mio cuore Signore hai compreso bene stamattina che vuol dire vieni nel mio cuore vieni nel mio tempio vieni nel tuo tempio lavami col tuo sangue diglielo Signore lavami col tuo sangue purifica purificami Signore sì 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 e da questo momento digli da questo momento voglio che Tu resti sempre nel mio cuore voglio che Tu resti sempre nel mio cuore fino all'ultimo respiro della mia vita per poi venire con Te fino all'ultimo respiro della mia vita per poi venire con Te hai ascoltato un messaggio registrato in diretta continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org www.paroledivita.org